Ciao a tutti, sono Morena, responsabile del settore Aquafitness e Salute. Finalmente abbiamo potuto riprendere le nostre amate attività, far scorrere energia positiva, tenere fede al nostro impegno nel corso di questo trimestre. In questo percorso che abbiamo dedicato al miglioramento della capacità di respirazione cardiopolmonare, sicuramente abbiamo più possibilità di essere più sani ed avere anche un percorso di prevenzione adeguato al momento che stiamo trascorrendo. In acqua possiamo affermare che chiunque a qualunque età può trovare la propria strada e praticare un'attività consona al proprio stato di salute, quindi prevenzione e cura di eventuali patologie che abbiamo. In acqua naturalmente sappiamo che non c'è rischio di sovraccarico osteoarticolare, poi l'acqua è un potente elemento che ci avvolge, ci coinvolge, ci rilassa, cura anche le nostre insicurezze, ci dà voglia di fare, di esprimerci, anche se nella nostra fisicità non ci sembra abbastanza adeguata. L'acqua non discrimina, l'acqua non dà giudizi e non ha pregiudizi, quindi chiunque può affrontare in qualsiasi momento, qualsiasi allenamento adeguato alla proprio stato di benessere e di salute. Il gruppo aiuta moltissimo in questa cosa qua e ci aiuta a perseguire proprio la continuità del nostro corso, quindi siate voi promotori di questo benessere che state sperimentando e che spero continuerete a fare nel prossimo futuro e anche finché avrete voglia di venire e vi farete voglia di venire. Grazie, ciao ragazzi! Grazie a tutti!